Ciao a tutti, ho cercato di raccontare la nuova procedura di autotrim dell'Arducopter 2.9 Prima ricordate di impostare il canale 7 nel planer APM in autotrim Poi, bisogna resettare tutte le trimmie e le subtrimmie nella tua radio Armi il motore Prima ricordate di mantenere il quadro in l'aria In la stessa posizione come con il Vuitton Loiter Guardate il tuo quadro Il mio quadro va alla right Primm il quadro con la radio L'armi 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 In l'armi In l'armi L'armi In l'armi In l'armi In l'armi blanco un po' di l'interno blanco, l'interno ok, è ok ora, l'interno ora è importante mettere il trotto in la posizione con il trotto in questa posizione cambiare il chanel 7 per più di un secondo rilassare il chanel 7 e rilassare il trotto rilassare il trotto rilassare il trotto nel tuo radio 0 nell'eneron rilassare 0 nell'eneron e 0 nell'eneron rilassare rilassare e cercare se il quad mantiene la stessa posizione in l'eneron senza rilassare e rilassare ok, è bene grazie per aver guardato ciao